Anche quest'anno l'influenza ha colpito duramente gli italiani, con una diffusione della malattia e dei casi gravi rispetto agli anni precedenti. Gli esperti stimano che quest'anno il virus abbia già colpito circa 3 milioni di persone, in particolare bambini e soggetti non vaccinati, mentre secondo le prime stime sarebbero circa 7 milioni gli italiani con febbre, tosse o spossatezza. Un male di stagione, come sempre, da non sottovalutare. Dottore, qual è la situazione nel nostro territorio? Il nostro territorio rispecchia, penso, quello che è l'andamento nazionale. Diciamo che l'influenza già si è presentata dalle ultime settimane intorno a Natale i primi casi e in queste prime settimane stiamo osservando un picco in elevazione, soprattutto nei bambini e nei soggetti giovani e adulti. Mentre troviamo che ha una minore incidenza nei soggetti che hanno sopra 65 anni e questo gli diamo una motivazione, il fatto che in genere i soggetti che sono al di sopra dei 65 anni hanno fatto la vaccinazione. Quindi anche a livello nazionale questo dato sembra dimostrare che nei soggetti vaccinati probabilmente il virus fa più fatica a circolare. Ecco, per raccogliere maggiori informazioni voi ogni settimana contattate i cosiddetti medici sentinella. Sì, io devo ringraziare perché è un'attività che viene fatta in maniera volontaria. Noi abbiamo alcuni medici di medicina generale e dei pediatri che si sono messi a disposizione nel registrarne nella loro attività quotidiana i casi di influenza che incontrano. E noi ogni settimana, attraverso una telefonata che è collegata poi con l'Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero della Sanità, contribuisce a fornire quel dato nazionale e regionale che permette di capire come sta andando l'influenza. Quindi anche noi nel nostro piccolo contribuiamo a vedere l'andamento epidemiologico e ringrazio appunto questi medici che collaborano. Secondo i dati della copertura anti-influenzale dell'area Vassa 1, nel 2017 sono state fatte oltre 54.000 vaccinazioni, in aumento rispetto all'anno precedente ma in calo in confronto al 2013-2014, quest'anno invece ne sono già state ordinate ben 61.000. Ecco, ma come difendersi? È possibile fra l'altro anche fare ancora il vaccino? È sempre possibile farlo, soprattutto se sia soggetti a rischio e soggetti anziani che possono avere complicanze da influenza. Tutto al più il problema qual è? Per fare una sieroconversione, per avere una protezione per l'influenza, in genere lo accogliono almeno 15 giorni dal vaccino, quindi trovandosi in piena epidemia potrebbe rischiare che uno ha fatto il vaccino ma si becca comunque l'influenza. Un'attenzione va rivolta anche alle norme igieniche? Sì, in questa fase, soprattutto per chi non è vaccinato, l'unico strumento oggi per potersi un po' difendersi dall'influenza è quello di adottare delle norme igieniche. Soprattutto una delle principali norme igieniche è proprio il lavaggio delle mani perché sembra incredibile che una malattia a trasmissione aerea abbia come veicolo le mani, ma in realtà è così perché basta toccare maniglie, trovarsi magari in un luogo pubblico o in un mezzo pubblico, quindi avere una possibilità di lavarsi sistematicamente le mani è già un sistema di protezione. Poi evitare il più possibile luoghi iperaffollati dove comunque si può avere una maggiore circolazione del microorganismo. per far vedere le classi d'età che sta colpendo.